Poteva trasformarsi in una tragedia l'incidente accaduto in tarda serata a Longano. Un bobcat a bordo del quale c'era un 39enne con i suoi due figli piccoli si è ribaltato, precipitando in una scarpata profonda più di 10 metri. Forse è un problema al mezzo, forse il fango e la pioggia, che dalla piccola stradina interpoderale hanno fatto scivolare il bobcat nel dirupo. Immediati soccorsi dei parenti, che, richiamati dalle urla dei bambini, hanno tirato fuori i piccoli dal bobcat. Per il padre, invece, rimasto sotto il mezzo con la gamba incastrata, è stato necessario l'intervento del 118 e dei vigili del fuoco. Essendo fuori uso per guasto il macchinario delle tacca Isernia, l'uomo è stato portato al Cardarelli di Campobasso, dove attualmente è ricoverato in rianimazione. Nell'impatto il 39enne ha infatti riportato lesioni al torace e danni a un polmone. Per i bambini, invece, fortunatamente, solo traumi di minore entità. Il più piccolo, di appena un anno, ha un dentino rotto, mentre il fratello, di quattro anni, è stato ricoverato al nosocomio pediatrico Santo Buono di Napoli, con il setto nasale deviato e un problema al polso. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri di Isernia, per il recupero e il sequestro del mezzo, che verrà messo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Intanto indagano le forze dell'ordine per ricostruire la dinamica dell'incidente.